fedez è nella sua villa a porto cerco insieme alla creator di only fans giulia ottorini dopo i diversi gossip sul loro conto i due sono apparsi insieme in un video su tiktok il rapper di rozzano fedez è nella sua villa a porto cerco insieme alla creator di only fans giulia ottorini dopo i diversi gossip sul loro conto i due sono apparsi finalmente insieme in un video su tiktok non è la prima volta che si parla di un flirt tra i due ma il loro video hot ha sconvolto i fan il loro primo avvistamento insieme è stato al quakella festival fedez in vacanza con giulia ottorini è ufficiale da diversi mesi si parla della possibilità del fatto che il rapper fedez abbia un flirt con la creator di only fans giulia ottorini se prima si trattava solamente di alcuni indizi social ora i due hanno deciso di mostrarsi insieme nello stesso video il filmato è stato girato nella villa a porto cervo dove alloggia da settimane il cantante alcuni mesi fa i due erano stati avvistati insieme al quakella festival mentre camminavano insieme ma il loro rapporto sembra più profondo di così la 22enne ha pubblicato un video su tiktok in cui balla su alcuni versi di rosalia il nuovo brano del rapper di rozzano con taxi b proprio mentre sta iniziando a ballare e dalle spalle alla telecamera per mostrare il lato b appare nell'inquadratura il cantante con in braccio il cane silvio sembra che la sua intenzione sia quella di coprire la ragazza e non mostrare le sue forme lo sguardo dell'ex marito di chiara ferragni è fisso per tutta la durata del filmato che ha come sfondo la villa in sardegna dove sta trascorrendo le vacanze giulia ottorini è ricomparsa dopo poco per chiedersi cosa stesse facendo il cantante soltanto qualche giorno prima la creator di only fans aveva pubblicato dei scatti sui social che la vedevano sdraiata su un lettino nella casa di porto cervo insieme al cane silvio il golden retriever appartiene proprio al cantante di rosalia che ha adottato dopo la rottura con la moglie chiara ferragni a confermare l'ipotesi sembra esserci un'altra foto della 22enne nelle quali prende il sole in una piscina che sembra essere essere proprio quella della villa del rapper a togliere i dubbi rimasti ci ha pensato l'esperto di gossip alessandro rosica che ha pubblicato un video dei due al billionaire noto locale di flavio briatore ciao 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 ciao